ciao ragazze ben ritrovati sul canale gli chiedo scusa che mi vedete di un'altra non so la luce come sarà e l'angolazione lì con quella porta aperta che lo vedete è il mio la mia dispensa l'ho lasciata aperta perché devo mettere tutta questa roba che vi farò vedere ora quindi abbiamo un svuota la spesa di del risparmio casa mi sono fermata qui perché perché ho tutta la roba sparpagliata qui intorno a me che lo devo mettere nella dispensa perciò ho detto farò stavolta il video da qui benvenute sul canale quelle che siete nuove grazie per la fiducia dell'inscrizione al mio canale spero che rimanete con me e nella mia community allora solata da risparmio casa chi non mi conosce io vado ogni due tre mesi a fare un rifornimento perché trovo questo negozio un negozio abbastanza ben fornito e che si può un po anche risparmiare d'altronde per quello si chiama risparmio casa che cosa ho acquistato in primis ho acquistato i detersivi per la casa e ora vi faccio vedere io ho preso l'ace 5 litri questa è la candeggina la utilizzo per tutte le superfici in generale anche per la roba che si macchia preferisco la candeggina specialmente per i bianchi perché è utilissimo ho preso poi il deodorante che non so perché speriamo che non perda per il water sempre del loro brand questo è con la candeggina profumo di limone poi detersivo per i vetri quello con l'amonia camace anche con l'alcol è classico se lo volete non vi dico i prezzi perché bisogna vedere in base del vostro negozio poi detersivo per i pavimenti ho preso questo qua al limone girasole io lo combino metto un po di questo è un po di ammoniaca e così la voi pavimenti dipende non ho un standard per lavare i pavimenti e poi questo ai fiori rosa e melograno poi un detersivo per i piatti perché d'estate non uso molto la lavastoviglie ma in genere anche se la uso un detersivo per i piatti devo averlo sempre in casa poi detersivo per lana e delicati serve sempre questo di risparmio casa ve lo consiglio è molto buono poi l'anti calcare vi consiglio questo qua a parte che economico ma il dupe del cal font calgon come si chiama ed è funziona non ho mai avuto problemi con la lavatrice togli gli odori sgradevole pulisce anche molto bene le guarnizioni non vi si accumula tipo lo sporco altre cose vi consiglio questo qua poi detersivo per gli indumenti io uso questo loro brand costa intorno ai 4 euro nel mio negozio dove vado io e vi devo dire che sono quattro litri di detersivo super concentrato togli tutto anche a 30 gradi mi trovo lo uso credo da ormai tantissimi anni un flacone di questo ne ho abbastanza ma mi sono fatta la scorta così fino a natale non ci andrò al negozio ho preso questo ai fiori di lotto questo qua freschezza oceanica e uno a lavanda poi detergente per il la doccia questo qua dell'alicia ho voluto provarlo non non l'ho trovato cattivo già come ingrediente vedo che scritto anche adatto per i bambini se avete i bambini è un formato famiglia in casa mia lo uso solo io però preferisco questi di formato grande la candeggina densa attiva perché mi serve anche questa in casa assorbenti queste dell'anvenia tra l'altro hanno un'offerta per quando avete le mestruazioni abbondanti poi ho preso questo kit guardate che carino che erano anche l'altro colore a me mi è piaciuto il colore scusate il rumore viola cosa c'è è un kit per la cucina il mio si è un po è un po invecchiato ogni totale cambio da tenere la spugna anche questo aggeggio qui che è una spazzolina e poi qui mettete il detersivo per i piatti mi sembra una cosa molto carina e anche molto estetica da tenere sul lavandino e tenere anche in ordine la roba poi ragazze cose utili in casa perché ti si rompe qualcosa o ti serve elastico quello da mettere ai pantaloni alle mutande dove volete voi sia nero che bianco poi i dischetti leva trucco sì uso anche quelli riutilizzabili che li lavi ma uso anche questi bisogna averle in casa anche questi qua poi vi raccomando questi panni che sono diciamo un dupe o una variante chiamiamolo più economica dei panni per pulire i pavimenti tipo della swiffer questi qua cattura polvere io ho preso col profumo di lavanda sono belli grossi se non avete la diciamola lo strumento della swiffer e avete un altro tipo per i panni questi sapete che si è dato anche quel tipo un po più grandi cielo alla vaniglia e al muschio bianco sono 99 centesimi e sono 22 pani quindi anche se usato usate 1 al 2 al giorno vi basta per un po di tempo poi vi devo dire che si risparmia parecchio pazzo reti sembra di risparmio casa per pulire il naso e tutto quanto ci servono anche questi sacchetti per la spazzatura quelli con il manico poi come sapete chi mi conosce passa che noi usiamo molto in casa i fazzoletti questi dei bambini per la toilette a posto di carta igienica quella umida serve da averci sempre in bagno non so noi abbiamo questa abitudine dico noi perché io e mio marito perché siamo in due in casa poi altro tipo di faccioletti questi sono quelle tipo veline quelle sottili e ho preso guardate che belle che sono anche questa costano poco 99 centesimi in confronto alle altre mi sono presa dalla ville da questo lavasciuga sono uno dei panni e sono tre pezzi un prezzo buono per asciugare i piatti e poi carta igienica e asciuga tutto il rotolo sempre loro brand e poi la acetone preso questa qua due deodoranti di quelli nuovi della tab questo verde fresh e powder e poi 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 due deodoranti anzi non sono detergenti per le parti intime stavolta abbiamo trovato questi questo quadra la fresh and clean in un'offerta costava poco ho preso questo delicato con calendula e malva con un ph 5,5 e poi questo qua continuo e propoli che con un antibatterico naturale vediamo come sono non ho mai usato questi dalla fresh and clean vediamo un po di solito noi compriamo quelli della venus però ha detto vabbè cambiamo un po poi la cera di cupra la crema intubeto quella che mio marito la usa da una vita quella per le peli secche quella rosa e questo è tutto abbiamo avuto anche un sconto di 5 euro perché ci siamo tolti i punti quando si arriva a un tot punti se tu vuoi tolerti e farti una uno uno sconto risparmio casa ti dà questa opportunità ovviamente bisogna averla tessera e noi dovevamo pagare 76,5 virgola 05 abbiamo pagato 71,5 quindi 5 euro ce li hanno scalati mi sembra che l'idea questa di averla tessera e di scalare i punti è una buona cosa perché così vi aiuta ovvio per quello che si chiama risparmio casa va bene ragazzi vi mando un bacio grosso se riesco vi lascio il link del del negozio magari andate a vedere perché hanno anche il volantino con le proposte che ci sono le offerte del del periodo grazie mille per la visita per l'inscrizione e noi ci vediamo sempre qui su questo canale alla prossima un bacione bellezze